Bella ragazzi, qua è Ghiotto, notizia bomba, notizia di ieri che ha scosso l'ambiente Lazio Stefan Radu, veramente un fulmina a ciel sereno, perché Radu ha incontrato fino al 2021 sembra che Lotito lo voglia congedare appunto dal suo ruolo di giocatore nella Lazio perché Lotito sembra voglia riservare a Radu un ruolo in società, si dice il nuovo Tare cioè seguire le orme di Tare che da giocatore è diventato poi uno dei migliori direttori sportivi in circolazione infatti quando era uscita la notizia che Tare era nel mirino del Milan io ero molto preoccupato veramente perché sarebbe stata una perdita gravissima per noi perché Tare veramente in questi anni con pochissimi soldi di disposizioni ha fatto benissimo, veramente ha fatto benissimo spendendo poco comunque siamo sempre tra le prime del campionato però Radu sinceramente non ce lo vedo neanche in quel ruolo lì ma così a pelle poi magari tra qualche anno però secondo me è una cosa ancora un po' prematura io sinceramente di Radu si era parlato già tempo fa di dire si Radu è un classe 86 quindi non è decrepito perché non ha 40 anni però comunque va verso i 35 anni però diciamo che Radu gli errori che faceva adesso li faceva anche anni fa quindi non è mai stato un fenomeno però un giocatore con tanta grinta è Laziale vero comunque ha rinunciato sempre anche ad andare in nazionale comunque per la Lazio e nei derby è uno dei più caldi spesso espulso quindi sicuramente alla maglia della Lazio ci tiene e fisicamente secondo me sta bene io lo vedo che la corsa è uno dei ancora dei suoi maggiori fattori positivi ecco rispetto perché poi lui tatticamente non è bravissimo però nella corsa e anche negli interventi io lo vedo sempre puntuale voglio dire non ha perso quella lucidità quindi sinceramente Radu ancora un anno poi si può decidere lui ha il contratto fino a 2021 quindi ancora due anni secondo me Radu li può fare poi che Radu magari non possa fare il titolare o comunque non può giocare 40 partite all'anno sono il primo a dirlo sono d'accordissimo ma in difesa in generale noi dobbiamo acquistare adesso siamo all'inizio del mercato di difensori qualche nome è uscito ma nomi così ne sono usciti tanti ma neanche nomi molto importanti e soprattutto non ci sono trattative siamo ancora presto ok ancora presto è tutto diciamo sembra vicino Johnny questo esterno sinistro non già parlato in un video vediamo Wesley è mesi mesi che se ne parla sembra vicino sembra lontano sembra che arrivi sembra che arrivi però non si sa e invece in difesa ancora nomi caldi non ce ne sono non ce ne sono però secondo me Radu ecco insieme ad Acerbi e Luis Felipe e Bastos devono rimanere loro quattro io darei via Wallace, Patrick e prenderei altri due ok soprattutto un difesore centrale veramente bravo anche un giovane magari che possa poi crescere e Radu su me può fare anche un po' da chioccia quindi sinceramente concedere Radu io non lo farei poi ditemi la vostra nei commenti se ne è parlato ieri questa notizia di ieri io lavoravo me l'avete scritta voi mi avete avvertito voi su Instagram perché non avevo non avevo letto niente stamattina di nuovo voci insistenti su questa cosa quindi appunto ne volevo parlare quindi ci tengo a sapere la vostra opinione like al video, condividetelo, seguitemi su Instagram bella